Siamo tornate su iSomnium, oggi piove, una live di pioggia. Scusa, dove lo metto? Dobbiamo fare iSync, ci vedi? Ma che è sto rumore? Non è quello, vero? Siamo di nuovo in sto shovelforge qui. Siamo di nuovo in shovelforge, però vorrei abbassare un po' perché è un po' altissimo. Aspettate, dov'è il telecomando del televisore? Vedi se sta qua sotto? Ah no, sta qua dietro. Mio fratello fa sparire i telecomandi e li mette e non si sa bene dove. Allora, adesso dobbiamo fare, adesso le dico qualcosa, eh. Pick up. Pick up. Allora, dig. Dig dig dig. Ok. Meo meo. Buona Iris. Ok, fino a qui è ok. Fino a qui è ok. Dig. Nuovo quadrato. Ok, possiamo adesso. Buoni tutti. Managgia sbagliato al per strada. Invece che fare quello che dice, dai facciamo questo. È uno, è un tavolo. È uno switch. Spento. 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 Questo è quello che sta dietro a tutto questo. È Iris scoperto a me? Non sono scoperto. Project Bluebeam è usato i holograms per tracciarti. Non puoi lasciare il te stesso. Devi usare la potenza di danza. No, basta Iris con la power of dance. Oh, guarda questo. L' enemigo ha desaparegato. Crederti ha fatto una brutta fine. Non ci interessa, grazie. Allora. E qua. Tutto, tutto, tutto. Per fare... Faccio una cosa. Mi sento, Iris. Sì, lo so, è un po' incasinato. Allora... Dig. Dig, dig. Eh, me ne cerchio. Eh sì. Andiamo. Con la musichetta. Sì, sì. Questo lo sappiamo. Ops, scusate. Alcune cose non le devo saltare. Vabbè. Allora, dobbiamo andare lì e non dobbiamo andare lì. Noi dobbiamo andare. Qui. Però mai dove stai andando? Eh, osserva. Parliamo. Sono un zombie. Qua? Wow! Qua scared me. Why is there a monster in Marble? Hey, don't say that about Mama. Oh, please. Is that... This man? What? You know him? Not exactly. He has a familiar face, but as if he is an urban legend of sorts. No, that's okay. la faccia del tizio romeo non lì via allora andiamo ad andare qua si e sta sotto romeo no si ti apro la finestra si vieni qua vai fuori scusate oh non mi vuole stare fuori 32 abbiamo glitchato la pickaxe questo di è durissimo si preme mai è là il nuovo posto no this is no miracle nearly the result of the game programming changing the iris that can't be Dante what are you doing? what about the monument? what about fighting nice? tell her that we have the strongest pickaxe let's continue wait Dante no don't abandon me ow p p p p bella strada tutta glitchata abbiamo glitchato la strada lo schermo nero per andare al bagno eh già andiamo muoviamoci qui c'è un coso un occhietto no 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 andiamo 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 c'è la piramide Romeo non lì aspetta un attimo sto litigando col gatto no 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 entra entra non capisci ora vi do anche la finestra scusate c'è il gatto che è un po' pazzo oggi uff allora va dove non deve a mangiare le spine rompi rotto mamma iris quando era un figlio? Mh, ho fatto? mi ha detto? Iris, questo è tutto in teore. Stai immaginando. Non è vero. No, sei vero, Date! Iba. Cosa? Ebbiamo cercare questo. Si. Allora! Tanto... 999 secondi. Rompi tutto. 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 Puff. C'è una porta. Che si apre. Dietro lo specchio. La casa. Ma perché devi leggere cose così difficili, Iris? Eres? 0.01 secondi. Rompi tutto. Rompi tutto. Rompi tutto. Ero. Dottie e Tessa Sì. Dottie e Tessa Dottie. 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 Sì... Dottie. ecco grazie, dove vai? No, sicuramente Renju ecco grazie, dove è Iris? Perfetto Non miferizzare tutto, mi raccomando Non pensare a cosa c'era Non ti lascia solo con Iris Perfetto Romeo non lì Prego, Mitsuki Adesso scendi, Romeo Perfetto 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 Oh mamma Perfetto 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 Quando si è perso la Ecco perché è caldo e freddo Perfetto 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 Hai un'idea di chi questo potrebbe essere? No. Ok. Io andrò a guardarla. Andrò anche. No, per favore, stai qui. Ma... È tutto bene. La troviamo proprio. Oh, Roma ha deciso che adesso vuole stare in calma finalmente. Ok. Allora. Eh, Uncle forse. O Orange, uno di due. Ah. I love you. Yeah, i love you! He's done so much for me. I know I can rely on him more than anyone else. According to the mermaid at Sunfish Pocket. Not... Ciao! Ciao, chat, condividi. Ciao, chat, condividi. And Iris went looking for Him. Exactly. Then what can I do? We've been looking for Regi. Appunto. Lo so. E lo dice a me? Lemniskate? Ecco. Casa sua? Perfetto. Sunfish Pocket? Non l'avrei messo in dubbio. Non lì, Romeo! Sono sicura che ci avrebbe detto. Vabbè, finché si è sdraiato? E andiamo al Cold Storage. E andiamo! No, è dietro. È sdraiato. Non c'è nessuno qui. C'è nessuno qui? Non c'è nessuno qui? C'è nessuno qui. Non c'è nessuno qui. Non c'è nessuno che vivi ha detestato. Poi... Non c'è nessuno che vivi ha detestato. C'è un morto? Nel momento c'è nessuno che può ritrovare. Ehm, cosa? scusa apriam ma è sicuro? di nuovo, mu si viene ah, pensavo si venisse quasi scusami eh non svenire martedì ritagliate cagami amico mio buttate di sotto, ah mi raccomando si, fra un po' mi coso c'è il nostro amico cagami tu cosa danni la scena è stata inspeccata senza te questa volta l'esitore non desaparegla conti, non si失i coscienza ma persocia non si manca fu vediamo il corpo è stato veramente sconfitto non potevo che fosse la tona di tipo credi che l'esitore è imposto ora che sei tornato, proviamoci due ragazzo sei politico, non sei persociessa? E' la morte che si riuscita? E' la morte che si riuscita a me. Se non l'ai mai avuto la volta Ota, questo non avrebbe mai avuto. Se crede davvero, il tuo cervello è completamente rotto. O, magari quando hai visto il corpo, il tuo cuore è pieno di immagini di un dandelion. Perché? se la situazione logica, anche se un studento di scuola di scuola di scuola potrebbe capire... ok, mi permette di prendere alcuni di questi dandelions da tua mente, io chiedo tre domande, per favore, rispondi rispondendo, rispondendo, rispondendo la prima domanda, il servizio di scuola di scuola non era in operazione ma anche così, l'acqua era inutile e la temperatura di minus 58 gradi era mantenuta eh? perché è questo? meno 58? 8? come scusa? per preservare qualcosa un gelato, l'ice cream è bellissimo no, era completamente... un gelato il gelato e il gelato ora eee... è più semplice di quello che sembra penso ci siate arrivati ma... una macchina, una macchina si, si li è calentata la romea quanti cagami ci sono in questa situazione? oh quanti cagami ci sono in questo momento? e non può essere giri e non può essere giri è già grazie per avermi e non può essere giri con un occhio di scuola di scuola con un occhio di scuola di scuola Also unknown, but there is one likely suspect. Who? Let's consider the clues. The scene. Okiura Fishery Cold Storage Warehouse. Sunday night. We saw So here. And there is something else about So since we witnessed someone similar to Iris being stabbed repeatedly in So's Saw meal. But it wasn't Iris. It was this woman. That is highly likely. What we saw was So's memory from more than 10 years ago. I believe that is the case. Renju and So? But we still do not know where Renju is. That means that we need to talk to. So, Sejima. A posto. Mo'Cimena. Non ci voleva più vedere Mo'Cimena So. Andiamo nella residenza di sto cretino. No. 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 Grazie. C'era ne c'era che bisogna dire. Ah che pa... Ancora questi. Ma Zou? Ma chi è? Ce ne siamo andati. Così. Senza dire una parola. Pure. Pure. Ok. Riferimento a Zero Escape puramente casuale. Questa. Qui nuovo? Questa. 3 volte 3 volte 3 volte quando ho cantato in un mondo assomnium vediamo il corso di una chica question 2 chi è la chica? come si adriano 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 il profilo Questa era probabilmente Alice. Esatto. Mizzugi. E come faceva Mizzugi a saperlo? Mizzugi, pure tu cosa nascondi? Cos'è sta cosa? Alice, pure qui c'è una Alice, dai! All Ice, che era una citazione fatta a Zero Escape, il primo. Eh, ci manca, guarda. No, bene di nuovo. Eeeh... Stato con Renju? Di nuovo. Mizzugi non faceva l'aria di nuovo. Si, potrebbe essere. Quindi ho bisogno di sapere dove c'è. Ma... Ma non ho potuto capire di lui. Mizzugi, ho una cosa molto importante per te chiedere. C'è... 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 Mizzugi. C'è... Mizzugi. è stato un po' di più uguale a me è fatto non posso solo chiedere? ci cambiò tutto ho pensato che per sempre non vedo un corpo morto non ero anche nella città ho ripetato questo sempre e sempre e ho cercato di perdere tutto la pressione è l'optimismo questo è l'ultimo che Alice è arrivato durante la città che si è arrivato che si è arrivato che si è arrivato che era morta quindi io andato a Iris sui 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 cosa hai scoperto? autora sui 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 su no ovvio no 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 mazza ecco mica vi ricorda qualcosa che vi è stato detto da qualche parte tempo fa mica me lo ricorda no sai adesso vi ricorda esattamente cose che e zan sì che lo sapeva non le fate male poverina eeeh 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 sai eeeh 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 no eeeh eeeh she was killed when she was 19, she went to the same high school as you, and she was your best friend, isn't that right? nothing to say for yourself? hiding something? maybe you killed her with Renju no ecco now you're talking, but we know Renju committed a crime, illegally disposing of a body, and we can prove it perché, ovviamente eh, guerra, guerra, non guerra, guerra the cold storage warehouse where the body was found, it's been managed by Renju Okiyura for almost two decades now, and witness testimony proves that he knew about the corpse there and if I'm not mistaken, you knew about the corpse too, Hitomi you and Renju have been close since high school, it's not too much of a stretch to think that he told you about the body, and I remember you telling me one when I was young, I, Monica Iwai, my best friend how did you know that she was dead? I didn't don't play domino I know you're hiding something you know what happened 18 years ago and you knew she was pregnant you were her best friend of course you would have known tell me, tell me everything Dottie Dottie, she won't talk Dottie, she won't speak Dottie, she won't talk Sink with her oh ma che è? è pasta andiamo così quando non parla Sink così a c... ormai la storia è questa ormai non parlano Sink dentro l'adestate e la gente andiamo No. Allora? Ma? Niente aspettazioni? È giusto il monitor, guarda, sto credendo. Mi stai rascondendo qualcosa? Sicuri? Sicuri? Allora? Allora? Si Allora? Allora? Si In pratica, come avete capito, se stiamo più di un tanto di tempo invece che essere date saremmo i Tomi e i Tomi sarebbe te. Switchi all'interno di un altro porto. Ci sono sei SYNC. Uno è dato e l'altro buo. Non possiamo lasciare questo segretto fuori. Soprire i cittadini tra due persone, trattando le menti? Un bel casotto. Un bel casotto sul serio. Quindi evitiamo di stare in periodo di tanto tempo perché non vorrei che Tomi restasse dentro il nostro corpo. Sì. Sì, sì, ho capito. Non pari bene oggi. Non pari bene. Sono balance. Inizio. Soprire i pensi non fai bene. StorCU. Non pari bene. allora vediamo di risolverlo in fretta questo che si spera bello tutto buio fantastico aiba da mille colori non più è un bambino Segui una lusciola! La luce qua lì! E' un firefly? Penso! E' tutto buio! Che razza di sogni, Domi, porca miseria! Potrei sognare qualcosa di un po' più... Sì, però... Forse illuminato almeno! E' tutto buio! E' tre, meno quelle! Solo tre! Ah no, quattro! Scusate! Ce n'era uno dall'alto! Reveal the hidden secrets! E' un fiore! Allora... Allora... Bianco all'improvviso! ... 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 Eh? Pfff E' uguale, è un politico. C'è una leggera intenzione, discrepanza della eh, un'umana, no. Ehm, sì, Sol è il padre di Iris. E lei è la mamma, come si può capire ormai. Solo un po'. Ma infatti, ci mancava, guarda. Che cos'è? Oh no, non mi dire. Lo stesso che ho detto, mamma Iris. E' uguale, proprio identico. E' uguale. E' uguale. E' uguale. E' uguale. E' uguale. Ciao. E' uguale. E' uguale. Un'altra persona. Sì, infatti. Che è l'attacino di Datipona. Esatto, quello che non si vede mai. E' uguale. 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 Esatto. E' uguale. E' uguale. E' uguale. E' uguale. Ma non mi ha detto nada? Capirete chi è? Dopo. Già. È l'ultimo mistero che si sveglia. Sì. Proprio nel finale. Precisamente. Non mi dispiace di rinunciare. Non potevamo parlare. Non eravamo in spazio. Non potevamo solo vedere come tutto si trattava. Svevo che era l'interno, ma non potevamo rinunciare. Non potevamo fare nulla. Ricordo il mio corpo che è così velocemente. Siamo bene qui? Sì. Corri. Un minuto. Oddio. Ti ho preso l'occhio. Che schifo. Che schifo. Che schifo. Buona. Sto mi buona. Questa è quella che abbiamo visto. Quello che avete visto. Esattamente. Quello che abbiamo visto anche noi. non c'è. Perché no? No, 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 no. Bello. We couldn't leave Monica's body in the forest. We cleaned her up and took her to the cold storage warehouse. This warehouse is owned by Okiora Fishery. My father runs it, but it's not in use right now. They're moving operations to a better area. They're actually looking for buyers right now. But don't worry. I'll take over the warehouse. Are you sure? Yes. Don't worry. I'll keep everyone out. Everyone but you, of course. I'll give you a key. You can come visit anytime you want to see Monica. Bello. Non è proprio un modo migliore per andare a causare una persona morta, però ok. Monica, don't worry about the baby. I'll protect her, no matter what. And don't worry about them, either. The people who did this to you, I will never forgive them. I'm sorry, Monica. Sorry. I'm sorry. Monica. I'm sorry, Monica. il primo è la sua migliore amica muore la figlia, rischia di morire fantastico non è vero, ma non devi preoccupare solo mettere il certificato di bambino e tutto ciò che si tratta si sembrava risposta mi sento che... che sono in modo di train Monica lei è stata la persona che ha dato il bambino in pronto non potrai pensare perché una guerra è iniziata una guerra? tra te e il bambino, non potrai non potrai dormire un buon giorno per un tempo potrai anche iniziare a risentare Monica per tutto questo in realtà? in ogni modo as soon as you submit the certificate you will officially be her mother be sure to raise her responsibly I'll help occasionally occasionally, huh? molto, eh? ovviamente si è occupata di lei Iris the goddess of rainbows in Greek mythology and the colored part of your eye and the flower, too right anche i colori dei ride di Ranji noni 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 che noni che Il cangio per Monica utilizza il carattere per amore, e Monica mi ricorda di Monaco, il giapponese per eye. Quindi due nomi hanno qualcosa di a fare con eye. E eye? Cosa significa amore, sempre sarà parte di Iris. Quindi è come sei che hai come? Non ti pensi che sia bello? Iris. Iris. Sì, mi piace molto. Sì, mi piace molto. Sì. 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 Sì, la mia vita con Iris iniziava. La ragazza di un bambino era molto più difficile da ciò che avevo pensato. Spendendo in mezzo della notte per cambiare le bambini o la alimentare, Iris non era un buon dormitore. Ho dovuto cantare le lullabies per mettere lei a dormire, e ho sempre bisogno di mettere lei a dormire molto attenzione. Mi sembra mio fratello. Il mio padre raccontava che derogato, sennò appena lo poggiava sul letto e lei se ne andava, si metteva a piangere. Ecco. Uguale. Sì. 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 Uff uff. Mamma, ammoué, ammoué! Sì, sì, sì! Mamma, io vieno la rai oggi! Mi ha piaciuto di me? Mamma, io voglio vedere il mio nuovo Milky Moon! Mamma, sei così bene a danci! Mamma, i pancacchi sono finiti! Scusate, mi ha scoperto un po' di più. Pancacchi. Mamma, perché non posso danci a le stazioni? Non posso aiutare! il mio corpo danza da sua propria! Mami, non più persone vengono a barbeque? Come come è sempre tu e io? Perché sono proprio io e te? Hey, Mami! Quanto tempo mi prende la mia bonte per migliore? Voglio danza di nuovo con tutti! Hey, Mami! Gli piace la mia shirt? Guarda, stiamo combattendo! Mami, grazie per tutto! I love you more than anything in the whole wide world! Mami, look! I drew it! The Okonomiyaki War, huh? That was so fun! We should do it again! The food or the food fight? Uhhh... Both! I'm gonna have to say no to the latter, sweetie. It took forever to clean. But Uncle said he wants to do it again too! Hey, Mami! Yes? Are you gonna marry him? Wh-what are you talking about? As long as it's Uncle, I'm all for it! Let me say go for it! I would always question myself. Could I keep living a lie? I had promised Monika that I would avenge her, but I couldn't work up the courage. And maybe Renju was exaggerating, but there's no statute of limitations for murder in Japan. If we showed Monika's body to the police, So would be punished by the law. And the Zajima's and Kumakura's crimes would be uncovered. But that would mean... Iris' secret would be uncovered as well. That's what I was really worried about. I didn't want Iris to know that So was her father. And even more than that. I didn't want her to know that I'm not her real mother. That's the real reason why I've been silent for 18 years. I didn't want to lose Iris, but... Come fai a perderla? E' l'unica... Sei l'unica persona che... Gli ha fatto da madre? Sì. Più di quanto lui abbia fatto da padre a suo figlio, quindi... Good, Renju! In January... Iris suddenly collapsed. It was caused by a malignant tumor in her brain. There's nothing we can do. She only has a year to live at most. That's what the doctor said. If you remember me telling you... But what I didn't tell you... Is that there was an experimental new treatment. It was... Some of the cutting-edge nanomachines can even go inside your body and cure illnesses. They can even cure cancer! And they go... Beep, beep, beep! That's what Mom said. Eh, non ha macchine, ovviamente. Nanomachines. Nanomachines could remove the tumor. But the procedure would be so expensive. With my salary... It wasn't something I could afford. I thought hard about it. About how I could get my hands on that kind of money. But I couldn't think of a solution. Time passed. Before I knew it, it was November. Iris' symptoms worsened. Her time was running out. I was starting to panic. I couldn't sit here and waste time while Iris... In any case... I had to get the money. Before it was too late. So I thought of a plan. A plan to blackmail Sotsijima. Two days ago... On Saturday night... I called Soh and invited him to come to the warehouse. He agreed to come. After I hinted at what happened 18 years ago... I had prepared everything. Hiding behind the forklift until Soh came. When he finally arrived. When he finally arrived. When he finally arrived. He walked over to the work bench. Where I had laid Monica's body. He lifted the cloth and looked down. I looked down. I get hurt... and stumbled back. Even he was faced. Seeing a body he thought he got made of 18 years ago. Non mi ha detto che era il corpo di una uova che aveva in una relazione con una uova che aveva una uova che aveva morto. Ha reattato proprio come ho pensato che aveva. Ho preparato una ricordazione e ho sentito a la sua telefono. Tra le altre cose, cos'è Zero un'altra volta? Non mi ha detto a nessuno di questo, non Saito, non le Kumakuras. Se tu faci qualcosa che sia più vicino, io andrei a la presa con la verità, capisci? Mi ha detto di mantenere tranquillamente e cercare le rapporto con le Kumakuras, anche se si trovi che io ero. Sembri di una gara di Kumakura, non mi ha avuto la potenza. E non c'è modo che il rischia la carriera politica, non per farlo a me. Ma siamo entrati noi Sono entrato io Non è possibile Non è possibile Iris E invece non era Iris. Oh, non svenire. Grazie. In sottofondo sembra una canzone di Fanny's Fright. Tecnicamente è sua madre. Otomi ha dimostrato un amore e compagno per her, proprio come la mia madre biologica, se non più. Iris' tumore è stato scoperto nel anno di questo anno. Il solo possibile trattamento è una nanotecnologia experimentale. Ma, questo trattamento è costruito costruito. Otomi devise un plan per blackmail So Sejima per il money. La migrazione di stabilizzare il blackmailo è di dimostrare il proof. È per questo che Otomi ha creato la scena con il corpo. La migrazione di solito è stata la sua fuori. On Sunday night, lo che dotte sova era quello che mi ha preparato per so... ... Questo è il risultato di ciò che abbiamo appena studiato, ma ci sono alcune cose che ho ancora capito di capire. Date, portatecici insieme, chiedi le domande. Date, scappate! No, non l'avevo, tutto questo era mia idea. Scusate, non ho idea. Una idea, Beppo, ci credo! Scusate! Sono uguali! Sputate! Scusate! Ci sono i eventi di l'arbreo di domani. Scusate. Ci sono ancora alcuni dimenticati, ma credo che ho capito di capire 18 anni fa. Anche io. Non ciò si tratta direttamente con Shoko Nadami. Il suo suicidio era solo 4 giorni fa. È collegato? O sono questi due case separati? Se c'è una collegazione, sarebbe con Renju e So. di più importante. Il più importante... Che succede? come lo sai? dov'è? non ho capito non lo sai non lo sai potrebbe essere numero 89 non è per me iris è in danger ora la voce chiede per qualcosa mi ha detto che andare a un locatore con te con me? sì perchè con me? vabbè wow eh no l'ha detto a lui boss è stordita ah boom stordita boss e porca miseria più da wow perchè? ok anche no si si riusci easy 3 2 1 miralo ecco il braccio cacchio il braccio eeeew il salamato il salamato poi il salamato tommy prisa ok andiamo insieme perfetto andiamo bene andiamo bene andiamo tutta la velocità eccoci qua di nuovo fantastico ragazzi ragazzi hanno dato un certo sogno che abbiamo visto come è? è l'inno che è l'inno chica che è l'inno che è l'inno che è l'inno che ha il no no che Che storia! G! No! Maledetto Pewter! Di meno! Andiamo! Quattro ore di tempo abbiamo! Ok, entriamo! Apri! Beh? Ve la ricordate? Chi c'è lì? Bene! Renju! Morto! È un po' palliduccio! Bene! Numero 89! Bene! Bene! Zan! Zan! Cosa caspio sta succedendo da queste parti? Non lo sapete? Fino alla prossima puntata! Ovviamente! Ovviamente! Perché ovviamente? Sì! Voglio salvare! Sì! Voglio salvare! Perché ovviamente dobbiamo andare nella via verde! Allora! Allora! Vediamo un attimo l'ora! Ok! Allora facciamo una cosa! Arrivo fino a lì! Poi ci stoppiamo lì! Non qui! Ovviamente! Non qui! Questa è... Locked! Sì! Lo so che è lockata! Grazie! Ma questo è... Unlocked! Allora! Riopen! Riopen! Tanta roba mo lì! Riopen mo! Non esageriamo! Stavolta proprio dormi di profondo! Un martedì! Eravamo lì davanti alla cosa di Boss! Qua! E... Eravamo in realtà proprio così! Eh! Per la domanda! Oì! Che c'è per lì? Aiba! Aiba! Bene! 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 Di nuovo! Per la domanda! Aia! Aia! Tutti i sospetti vanno verso di lei! Boss è il nuovo cyclops killer? Shoko! Renju! Iris! Ota! So! Boss killed them all? Ma che caspita! Dov'è? Dov'è? Oh! 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 No eh! Non anche i Tommy, grazie! Non sarebbe proprio il caso! No eh! No eh! No eh! No eh! Dov'è? 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 Koname Date! You were under arresto per murder! Io! What the hell? Drop your weapon! Comply! Ah! Io sono in arresto per omicidio! Ma che sto matta! E come ucciso Iris? Spiegamelo! No! No dimmi come... You killed Shoko Nadami! Didn't you? That's ridiculous! What are you talking about? Don't lie! E per quale motivo? I don't know! She was gone when I got here! Why did you come here? Why would I tell you? This is going nowhere! Are you going to fight? I have no choice! I recommend against it! You have zero chance of winning a firefight! Well then, what can I do? Let me think! Ecco, pensa ma... Ci conviene pensare! Pensa, pensa! Pensa, pensa! Solo i fan più fatti di più hanno avuto l'occhio! Mamma mia! Per quanto? Un cretino edition! Complimenti! Ma che era latte in polvere? Farina! Ma è dentro quel cosa sta la panina! Vabbè! Fallo e non rompere! Annaggia a te! Che poi quelli sono scemi! Guardano uno che prende un magazine e stanno fermi! Così a caso! Oddio, devo sparare! Aspettate! Mamma! BOOM! Ammazza! E che è? Abbiamo fatto l'esplosione! Ups! E se sono fatti un po' male, direi! Ah, la spalla! Cosa! Ecco! Ehi! Questo è solo un magazine di cooking! Ti pare? Ma che ti pare che i Tommy... Il porno manca secondo te! Oddio! Perfetto! Che se non fa? A caso! Date! Talking to her would be pointless! You do know that, don't you? Ah... Walking... Questo lo facciamo la prossima volta perché il suo è molto complicato, eh! È stato un po' male! È stato un po' male! Sì. Questo rende l'idea di essere la culpita dietro gli altri morti molto alti. O magari aveva un compasso. E' per questo che sto cooperando con te, speciale agent Date. Voglio che sia così male come te, la verità. Pewter, sono le preparazioni fatte? Allora, cominciamo. Entriamo dentro e poi stoppiamo perché il suo sync è molto rompiscato. Devi essere preciso, proprio preciso. Eccoci siamo pronti. Ok. Dai. Bellissimo. Proprio il posto dove volevo andare. Eh? Ma perché? Mi ricordate quella che siamo appena stati? Ecco è quella. L'abbiamo visto? Anche con Iris. È la fine di Iris. Mental lock 2. Mental lock 3. Mental lock 4. Ok. Per minuti. Salviamo qui. Ma questo sync lo faremo la prossima volta perché è veramente rompiscatole. Perché bisogna essere precisi. Come? Aspettate. È successo qualcosa. Non salva ragazzi. Aspettate. Abbiamo un problema. Il problema. Cosa? Non so cosa sta succedendo. Non dì che sai. Cosa? Ma non credo. chiudiamo la live e arriviamo e poi siamo scusate